ciao come state tutto bene allora noi abbiamo un altro video di animus attack motor race nel video precedente li avevamo presentati sono della casa chi sono super velozzi vanno avanti e indietro vanno a carica oggi faremo la challenge noi si dovina la moto mai proviamo allora io sarò quello che viene vendato mi tolgo i primi cinque e simone altri cinque e due sono bonus perché sono dodici in tutto ok metti uno dentro l'hai messa? aspetta aspetta posso fare delle domande? ok mi metto gli occhi dai ok che cos'è secondo te? il cocodrillo che cos'è simone il cocodrillo? si il cocodrillo ok vai mi sa che è difficile allora questo è giusto? si è sorpente no hai altre due possibilità puoi fare una domanda se vuoi è grigio? no vai provo a indovinare il leone? si quale? bianco? no il leone è scuro no 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 vabbè però il leone è leone dai altre due vediamo sono andovini eh non vedo ecco non lo so come non lo sai? provo a farmi una domanda ah no aspetta è l'ultimo vediamo se questo lo indovini eh no sei perché le ultime pasando non mi fai sei ah sai vuoi farlo addirittura? io c'ho vai guardatemi guardatemi sono picco guardatemi no cos'è? cos'è io non ho visto ah capite vuoi fare una domanda? si vai è un pelino? si se ne sono altri ti assomiglia? una domanda potete fare quindi proviamo a indovidare fuma? no l'ultima possibilità jaguar no era il leone leone bianco ora ne fai l'ultima poi facciamo fare a Simone ok provare ahhh che ti faccia? si bravo ne indovinate? 3 su 5 no 4 su 5 dai 5 guarda tu ti metti gli occhiali adesso e dai la benda Simone proviamo dai mi metterò io? è facile aspetta aspetta stai buono Simone prova Simone ma non puoi metterla a me qui ma non si può far così lo devi tenere nella scala ma puoi usare anche la tua mano di qua dammi qui che buffonzello cos'è? mi fai le domande a me una domanda sono in casa è un lupo? no no non sono quel che mi hanno già preso è un indizio ti do un indizio? si a questo vuoi tornare in alto? ha la faccia bianca dai il leone bianco? no l'ultima possibilità vai 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 ti do l'ultimo indizio? mh è bianco e nero e non è giurentino è milanista dai bianco e nero bianco e nero non lo so o è marchisio? non lo so non puoi sbirciare dai mamma la so ti arrendi si e il panda il panda guarda pianco pianco facciamo una cosa aspettate che qua è una sorpresa indovino io adesso che dite? ma a me me ne sono domanda continuano a indovinare? si altri due dai altri due aspettate che ti la venda lo venda non si chiama venda ecco che cos'è è un po' no lo devi cavare eh vabbè io lo cavo sempre eh ma così non vale eh così la sfida è nulla quindi ecco questo è il muro si ecco più basso molto cosa è troppo basso? questo è curro è uno dei tuoi animali preferiti che prima hai usato nell'altro video indizio? è il primo animale che hai nominato è marrone marrone merda no più chiaro è un begiolino chiaro esatto un begiolino che ha delle macchine marrone di scuro e la giraffa bravo mi sono andata una patta così ah ti faceva la scatola? si dai è buona da mattina ah no devi mettere la benna prima si vediamo come voglio fare questo? è così si simone vai dentro la scatola eh fai il bravo allora ma non c'è questo è il muso? no ma quello lì è è il furo ok questo si è il muso inizio? si è nero 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 giuro è un gatto nero ma non è un gatto è un? ciccioni no è un? che animale è un? inizio con la P pisello no è un? pu? puma bravo mi ha detto pu? no puma il puna se ne va ma all'indietro lo fai? si ok si può fare sia avanti che dietro il puna se ne va ok ora sta a me ora sta a me allora si e che cosa prendo io? io stengo un prego si si seguiamo insieme si 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 lo metto io ok ecco è un il muso è quello che tocchi con la mano sinistra questo è si ma te è vera? si 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 vai 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 ok ok una tigra? no un guepardo? no un'ingizia? vediamo è un animale è un animale famigliato più o meno con il guepardo una tigra? no no cos'è? è un guepardo? no è un guepardo? nooo dai altro animale? uuuuuh no aspettate non c'è ma si ne abbiamo 12 la collezione di 12 quindi ne abbiamo ancora un po' ne abbiamo un po' questo è giusto dov'è il mudo? questo no? si è quello che tocchi sempre più avanti ok e la tigra? no il guepardo? no no l'altra cosa l'altra cosa l'altra cosa è il contrario di quello di prima è il contrario di quello di prima no è il contrario di quello che prima è il guepardo? si ma lei non ce l'ha detto è il guepardo è il guepardo è il guepardo è il guepardo guepardo vai va bene ma metti la buona dai ah no no adesso mi devo mettere una guepè è uguale su è questo per forza il guepardo no no il guepardo l'hai già detto allora è il leopardo no l'hai già detto al tigre? si sono tutti uguali con la benda quindi punteggio uno quattro due ah si bendatemi con te due che ora vi faccio una super sfida potete giocare insieme io di te mi fido chiudi gli occhi mi fido eh pronti? si pronti? via che cos'è secondo voi? dai qui un po' per uno che cos'è? questo qua se lo indominate avete vinto tutto è un è un è un lego che cosa? c'è un lego l'avevo sfaccato ma che cosa è secondo voi? è un lego è un gomillo è un lego con che cosa? con una berretta? con una berretta? si ma con che cosa? con una moto con una moto bravi vogliamo vedere? amo ecco per cui avete vinto sono e nel prossimo video ciao bambini mi raccomando mettete mi piace seguiteci collezionate tutte e dodici le Motor Race questo animo allo talk di gazza ciccio bello qui e fate una casella ciao ciao ciao